Dedicata al mio caro amico Nicola. Seneca. Lettere all'Ucilio. Libro VII. Lettera 67. La fermezza in mezzo ai tormenti riassume tutte le virtù. Comincio con un argomento banale. È giunta la primavera e, avvicinandosi l'estate, dovrebbe far caldo. Invece, la temperatura si è abbassata e non c'è troppo da fidarsi. Spesso sembra che si ritorni verso l'inverno. Vuoi avere una prova dell'inclemenza del tempo? Non mi arrischio ancora a fare un bagno freddo. Ancora tempero il rigore dell'acqua. Questo significa, dirai tu, non tollerare né il caldo né il freddo. È così, caro Lucilio. Alla mia età basta il freddo che le è naturale. Si libera dal gelo a malapena a metà estate. Perciò passo la maggior parte del giorno sotto buone coperte. Ringrazio la vecchiaia che mi tienfermo a letto. Perché non dovrei ringraziarla per tale motivo? Essa mi impedisce di far quel che la ragione mi proibisce di volere. Io non converso che con i miei libri. Se mi capita di ricevere le tue lettere, mi sembra di essere con te a tal punto che ho l'impressione di risponderti a voce e non di scriverti. Perciò, anche sulla questione che mi poni, voglio fare quasi una conversazione con te. Esaminiamo insieme l'argomento. Mi chiedi se ogni bene sia desiderabile. Se è un bene, tu dici, sopportare con coraggio la tortura e il supplizio del fuoco e avere pazienza nelle malattie, ne segue che codeste, sono cose desiderabili. Ma io non vedo in esse niente che sia degno di essere desiderato. Per quanto ne so, nessuno finora ha offerto sacrifici di ringraziamento per aver subito la flagellazione o per essere stato deformato dalla podagra o stirato al cavalletto. Analizza, caro Lucilio, queste situazioni e comprenderai che in esse c'è qualcosa di desiderabile. Io preferisco tener lontano da me i tormenti, ma, se debbo subirli, desidero comportarmi da uomo forte, virtuoso, coraggioso. Preferisco senza dubbio che non scoppia una guerra, ma se scoppia, desidero sopportare con coraggio ferite, fame e tutte le sue fatali conseguenze. Non sono così pazzo da augurarmi una malattia, ma se debbo ammalarmi, sarà mio desiderio evitare ogni atto di impazienza e ogni debolezza femminile. Così, non sono i disagi che noi dobbiamo desiderare, ma è desiderabile la virtù che ce li fa sopportare. Alcuni dei nostri stoici sostengono che una coraggiosa pazienza in mezzo ai tormenti, se non è cosa riprovevole, non sia neppure desiderabile, poiché si deve aspirare al bene puro, tranquillo, libero da ogni molestia. Io non sono d'accordo. Perché? Anzitutto, è impossibile che una cosa veramente buona non sia desiderabile. Poi, se la virtù non è desiderabile, e se è vero che nessun bene è senza virtù, anche ogni bene è desiderabile. Infine, anche se, la fermezza nei tormenti è essa stessa desiderabile. Ti faccio ancora una domanda. Non è forse desiderabile il coraggio? Orbene, esso disprezza e sfida i pericoli, e nei suoi aspetti più belli e degni d'ammirazione, non si ritira davanti alle fiamme, si espone alle ferite. Talvolta non evita neppure i dardi, ma li riceve in pieno petto. Se perciò il coraggio è desiderabile, è desiderabile anche la pazienza nei tormenti, perché è un aspetto del coraggio. Ma, come ho detto, analizza bene le parole, così niente potrà trarti in errore. L'oggetto dei desideri non è il soffrire i tormenti, ma il soffrirli coraggiosamente. È quel coraggiosamente che io desidero, e in esso consiste la virtù. Ma chi si è augurato tutto questo? Ci sono dei desideri espressi apertamente rivolti a particolari oggetti. Altri, invece, sono impliciti, e questo avviene quando un solo desiderio ne comprende molti. Un esempio di ciò si ha quando io esprimo il desiderio di una vita virtuosa. Ora, una vita virtuosa è composta da diverse azioni. Vi puoi trovare la botte di regolo, la ferita che Catone si inferse con le sue stesse mani, l'esilio di rutilio, la tazza di veleno che portò Socrate dalla prigione al cielo. Così, quando desidero per me una vita virtuosa, desidero anche queste cose, senza le quali tale vita è talvolta impossibile. Oh, molte volte beati coloro che ebbero l'avventura di morire sotto gli occhi dei padri, presso le alte mura di Troia. E non era la stessa cosa augurare tale sorte ad uno, o confessare che essa era augurabile? Decio offrì se stesso in sacrificio per la patria è espronato il cavallo, irruppe in mezzo ai nemici, cercando la morte. Il figlio, dopo di lui emulò il valore paterno. Pronunziate le parole rituali a lui familiari, si gettò nella foltissima schiera dei nemici, solo preoccupato di propiziarsi gli dèi col suo sacrificio, convinto che una bella morte fosse cosa desiderabile. Sei dunque ancora in dubbio se sia veramente un bene morire gloriosamente in un'impresa virtuosa? Quando uno sopporta con coraggio i tormenti, mette in atto tutte le virtù. Forse una virtù si mette in vista e risalta più delle altre. La pazienza. Ma c'è anche il coraggio, di cui la pazienza, la sofferenza e la tolleranza sono ramificazioni. C'è la prudenza, senza la quale non può prendersi nessuna decisione. È lei che invita a sopportare coraggiosamente ciò che non si può evitare. C'è la costanza, che sta ferma sulle sue posizioni e che, per nessuna forza avversa, abbandona i suoi propositi. C'è insomma tutto il corteo indivisibile delle virtù. Ogni azione virtuosa è compiuta da una sola virtù, ma d'accordo con tutte le altre. Ora, ciò che è approvato da tutte le virtù, anche se appare opera di una sola, è desiderabile. E che, pensi forse che sia desiderabile solo ciò che ci arreca piacere e tranquillità e ciò che viene accolto con grandi onori? Ci sono alcuni beni, dall'aspetto austero. Ci sono dei desideri, la cui realizzazione è festeggiata non con chiassose congratulazioni, ma con atti di adorazione e di religioso rispetto. Così, non pensi che il regolo abbia desiderato di ritornare a Cartagine? Cerca di capire i sentimenti di quel valoroso e lascia da parte per un momento l'erronea opinione del volgo. Fa tutti gli sforzi necessari per poter contemplare, nella sua sovrana bellezza e magnificenza, quella virtù che esige da noi non tributi di fiori e d'incenso, ma di sudore e di sangue. Guarda Catone, che porta le sue purissime mani al sacro petto e riapre le ferite non abbastanza profonde. Gli dirai forse, avrei voluto altrimenti, oh, mi dispiace tanto, e non piuttosto, sia onore a te? A questo punto mi viene in mente il nostro Demetrio, che paragona un mare morto, una vita tranquilla, non turbata dagli assalti della fortuna. Non avere niente che ti svegli e ti scuota, nessuna minaccia e nessun attacco che costringa a mettere alla prova la fermezza del tuo animo, ma giacere nell'ozio senza scosse, non è vera tranquillità, è una calma inerte. Lo stoico Attalo soleva dire, preferisco che la fortuna mi provochi alla lotta piuttosto che mi tenga fra i suoi prediletti. Subisco la tortura, ma con coraggio, così va bene. Muoio, ma con coraggio, così va bene. Ascolta Epicuro, egli aggiungerà, anzi, è piacevole. Per conto mio, non darei un così molle attributo a una cosa tanto nobile e severa. Le fiamme mi bruciano, ma non mi lascio vincere. Non è questa una situazione desiderabile? Non l'essere bruciato dalle fiamme, ma il non lasciarsi vincere. Niente è più nobile e più bello della virtù. Tutto ciò che si fa sotto il suo comando è, al tempo stesso, buono e desiderabile. Stammi bene, Lucilio caro. Lucio, Anneo, Seneca.